Il campo di alta pressione inizia a cedere dal suo bordo settentronale, correnti fredde e instabili. Dalla Scandinavia scendono progressivamente di latitudini fino a valicare l'arco alpino e raggiungere la nostra provincia, provocando un rapido peggioramento del tempo e un brusco calo delle temperature. Venerdì la mattina sul Vicentino il cielo si presenta sereno poco nuvoloso. Nel pomeriggio nubi sparse lungo la fascia prealpina, bassa probabilità di piovaschi. Estremi termici in pianura tra i 18 e i 30 gradi. Sabato inizialmente è soleggiato, poche nuvi. Da metà giornata un rapido sviluppo cumuliforme lungo i rilievi all'ingresso dell'aria fredda in quota. Primi rovesci temporali sull'Alto Vicentino, non si escludono grandinate, accumuli pluviometrici molto sparsi. Dalla sera sensibile calo. Domenica giornata caratterizzata da venti freschi e secchi da nord, ottima visibilità. Cielo da poco a parzialmente nuvoloso. Maggiori schiarite tra medio e basso Vicentino. Estremi termici tra 11 e 23 gradi. Per quanto riguarda la tendenza, dopo un lunedì mattina piuttosto fresco, dal pomeriggio la colonnina del mercurio salirà fino a 25 gradi. Nei giorni a seguire toccheremo di nuovo i 30-32 gradi. Non sono previste precipitazioni almeno fino al 2 giugno.